Ciao a tutti ragazzi bentornati nel terzo episodio del restauro dell'Aprilie RS25 per chi si fosse sintonizzato solamente adesso sul mio canale trovate i video precedenti in una playlist dedicata qui sul mio canale youtube vi ricordo che è ancora valido il concorso per poter vincere i cartemotori dell'Aprilie RS250 vi lascio qui sopra nella in alto a destra il video in cui troverete tutte le informazioni per poter partecipare vi ricordo che è un concorso gratuito quindi seguite le informazioni e partecipate adesso vi lascio al terzo episodio del restauro dell'Aprilie RS250 e buona visione ciao 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 ciao